La maggior parte di voi ricorderà il temperino. Ricordate che il temperino aveva una vite. La vite serviva per essere svitata e avere una lama a scuola. La scuola aveva una lavagna, la lavagna aveva una cornice di legno. E qualcuno al liceo classico, Lucrezio Caro, dove sono stato, aveva inciso con la lama del temperino svitata, eccetera, sulla cornice, indelebile per cui, cioè non è che si poteva cancellare, e per cinque anni tu stai sul primo banco e leggi Beati monocoli, in terra c'è coro. Ogni giorno, ogni anno, esci dopo cinque anni di liceo con un po' di umiltà. Nel senso, l'umiltà non di chi ha due occhi, perché quelli l'hai letti sui banchi. Si chiamano Platone, Aristotele, Kant, e lo sai che qualcuno ha una visione binoculare qua, che ci ha visto veramente bene, di lontano, li leggiamo ancora oggi. Oggi noi ancora leggiamo Platone, no, migliaia di anni dopo, quella è averci due occhi. Allora, quando poi qualcuno dice, ah, umile, umile sì, io ho visto, non parlerò di giocare perché di questi tempi non è il caso, però, ecco, ho visto e ho letto i veri filosofi, e allora non si può non essere un po' umili, no, cioè, dire un occhio solo. Poi però qualcuno dice, arrogantone, quel filosofo antipatico di Roma, è perché un occhio aperto uno ce lo può sempre avere. Allora, non si capisce se quella frase liceale dei beati monoculi, tu ti senti beato perché c'hai un occhio solo, o sfigato perché non ce ne hai due. E a forza di leggere i filosofi, ti ricordi che ogni tanto qualcuno ci ha visto di lontano. Allora, io quello che vorrei fare qui con voi è farvi vedere insieme, condividere, e non ci abbiamo tanto tempo, quello che un filosofo con un occhio solo ha capito fino adesso di questo digitale un po' complicato. E siccome non abbiamo tanto tempo, io delle cose che vi vorrei raccontare ne avrei a bizzeffe. E qui un'altra analogia ci sta bene. Per chi si ricorda un po' il liceo, noi filosofi con le caverne abbiamo un brutto rapporto. Ricordate la caverna di Platone? La caverna nera, puzza, umida, tutti lì. Poi arriva il filosofo finalmente. Però quando fai filosofia e leggi Platone, al di là della caverna sua, ti ricordi invece dei 40 ladroni, che non è alcun riferimento politico. In realtà è l'idea di fondo che ci sono delle caverne che hanno delle ricchezze, che si chiamano appunto cultura, scienza, sapere, saggezza. E allora, io con un occhio solo, se mi riesce di darvi un'idea di quello che mi dà lo spiraglio di questa caverna dei 40 ladroni, ecco, questo sarebbe il mio tentativo. Però aspettative basse, mi raccomando. Allora, era il tempo migliore e il tempo peggiore. La stagione della saggezza e la stagione della follia. Qualcuno l'avrà già riconosciuto, sempre per quel liceo ho fatto bene. L'epoca della fede e l'epoca dell'incredulità. Il periodo della luce e il periodo delle fenebre. La primavera della speranza e l'inverno della disperazione. Avevamo tutto dinanzi a noi. Oggi, incluso in questo paese, G7, come si fa a lamentarsi? Io non lo so. Eramo tutti diretti al cielo. Eramo tutti diretti a quell'altra parte, giù di sotto, nella caverna, quella umida, puzzolente. A farla breve, gli anni erano così simili ai nostri. Ora, questo qui è A Tale of Two Cities. È stata scritta centinaia d'anni fa. Racconta la rivoluzione francese, ma si adatta benissimo a qualunque periodo in cui c'è una trasformazione veloce, radicale, straordinaria. Allora, questo è un po' il mondo in cui noi siamo oggi. Non tutti se ne sono accorti, ma quella descrizione si applica benissimo. Allora, qui io vorrei un po' capirci un po' meglio, orientarci, diciamo, aspettative basse, e per farlo lo faremo in cinque passi. Questa mappina ritornerà, eh? Cioè, quindi, filosofia, trasformazione digitale. Oh, tra l'altro, il romano pigro le ha fatte tutte in inglese. Perché, insomma, a farle in italiano ci sarebbero volute ore e ore di PowerPoint del tutto sprecato. Tanto io lo so che voi lo sapete, e poi ve la racconto in italiano e non in casa. Quarta rivoluzione, la società delle mangrovie, il progetto umano. Eh? Oh, questa non era concordata, eh? È venuta così spontanea proprio da noi. Allora, iniziamo un briciolo di filosofia, giusto per capire dove siamo, cosa stiamo facendo, a che serve la filosofia, sempre nel caso in cui qualcuno avesse visto quella brutta filosofia fatta al liceo, quella robaccia che proprio, mai più, come quella brutta, cattiva bottiglia di vino che uno ha bevuto una volta, e poi da quel giorno in poi sempre birra, perché chi si avvicina più. Ecco, allora, la filosofia. La filosofia, velocissimamente, per capire che cosa vogliamo fare qui insieme, ve la spiego in questo modo. Immaginate di avere uno zoo di animali che voi volete catalogare. Per catalogarli, li catalogate in tanti modi diversi. Un modo è capire cosa mangiano. Vabbè, di tanti modi. E quindi, chiamiamolo input. Allora, tu sai che quell'animale appartiene a una certa categoria a seconda di quello che mangia. Magari mangia soltanto patate, oppure carne, o cosa. Allora, noi classifichiamo gli animali sulla base del loro input. Ecco, i problemi sono la stessa cosa. Per chi sa di computer science, lo sa che questo è un trick notevole, nel senso complessità, roba. Lo so che voi lo sapete, però la facciamo facile. Allora, i problemi sono la stessa cosa. Hanno una natura diversa a seconda delle risorse richieste per risolverli. In altre parole, che cosa mangiano i problemi? Cioè, animali, cosa mangiano? Catalogazione. Problemi. Quali risorse per le spiegazioni? Organizzazione. Alcuni problemi sono empirici. C'è abbastanza da mangiare nel frigorifero? Sì, no. O apri il frigorifero, oppure, non è che una speculazione sulla sedia, adesso ci penso. Oppure, quanta gente viene? C'è tanta quanta la scorsa volta. Quello è un problema matematico. Quanti hanno andato? Ah, uno a uno. Bene. Poi ci sono problemi completamente diversi. Sai quanto c'è in frigorifero? Sai quanta gente viene? Ti chiedi se puoi fare una festa oppure no. I problemi che sono aperti, cioè che non hanno la possibilità di essere risolti, a seconda delle risorse empiriche, fatti, o matematiche, formule, dimostrazioni, ma che sono aperti al dibattito, informato, razionale, e con un po' di buona volontà. Io e te, se siamo in disaccordo, non è perché siamo stupidi, non sappiamo quello di cui stiamo parlando, o abbiamo deciso di essere delle teste dure, è semplicemente perché su facciamo una festa sabato, si può discutere. Quelli li chiamiamo problemi aperti. La matematica e tutte le discipline matematiche si occupano di un certo genere di animali. Quelle altre, quelle del laboratorio, eccetera, dell'altro animale, i problemi aperti sono quelli della filosofia. Diciamo, ma allora anche mi tengo i capelli oppure no è un problema della filosofia? Certo. Non è scelta. Va messa alla prova. Diciamo, ma che sciocchezza. Ah, perché invece 2 più 2 è un problema matematico, quello no? Certo, è un problema anche quello matematico. Il che non vuol dire che non ci siano problemi matematici più importanti e meno importanti. Come fai a decidere se sono più importanti o meno importanti? Dalle conseguenze che si comportano appresso. Allora c'è una categoria, li organizzi, vedi che problemi a seconda di quello che consumano come risorse, quelli che consumano risorse di dibattito, dialogo, discussione, opinionare in un modo o nell'altro, scambiarsi idee e poi ripensarci. Insomma, quella razionalità mentale che fa di noi quello che siamo qui, ecco, quello è il mondo della filosofia ed è molto semplice oppure molto complesso. La filosofia è normalmente quella che si fa a Oxford, è quella che si occupa di robe un po' più serie che se risolvi poi ha una cascata di conseguenze enorme. Allora, qui cerchiamo di fare un po' di filosofia. Questa filosofia la faremo sulle trasformazioni digitali e qua io vado velocissimamente, ho quasi un film, ve la vorrei fare vedere un po' tun 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 tun, perché queste cinque frecce le conoscete benissimo, io lo so che lo sapete, è soltanto perché magari la giornata è un po' lunga, un po' di accaldamento e bisogna ricordarsi. Quattro frecce che portano in su e una che porta in giù. Lo so che lo sapete, quindi sarò brevissimo. Di queste quattro frecce, questa rappresenta la capacità computazionale che abbiamo nelle nostre tecnologie. L'unica cosa che dovete leggere, i numeri, scordatevi tutto, soltanto quella freccia che va su, 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 i computer sempre più bravi, sempre più capaci, computano sempre di più, sempre più velocemente, lo sappiamo tutti, ci mancherebbe, mica il filosofo di Oxford questo. Beh, frecce in su. Altra freccia in su, ma quanti siamo online? Tanti, tantissimi. Siamo miliardi ormai, ci sono 2.2 miliardi di persone soltanto su Facebook, ce n'è un miliardo e mezzo soltanto su YouTube. Oggi fa più strano non essere online che esserci. Allora, anche qua, su, 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 o tra l'altro per chi sta troppo lontano, quasi tutti col telefonino, mica come pensavamo, collegati a un mainstream, no. Altra cosa in su, ma possibile, no, no, anche le cose si parlano tra di loro, ma quante cose, tante, 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 tante. Nel 2015 abbiamo creato, noi, su questo pianeta, 13 trilioni, che io non so neanche quanti sono, ma sono tanti, di transistor al secondo, che quando ho finito questa frase, ce ne abbiamo altri 13, sono tanti, tantissimi, sono gazzilioni, ma dove sono andati? Nelle cose, nella roba che c'è in tasca, nella macchina, in casa, nell'attrezzo che ti tramatto perché gli hai chiesto ma quanto piove e ti dice un'altra cosa. Ecco, quindi la Internet of Things sta crescendo in maniera esponenziale, anche qua, freccia in su. Il che vuol dire che in questa fase qua, tra il 2003 e il 2010, ci sono ormai più cose connesse tra di loro, che si parlano tra di loro, che persone che si parlano tra loro. Per cui se tu sei un marziano, arrivi sulla Terra e ti chiedi la comunicazione nel senso di quantità, chi la sta facendo? Non questi cosi che si chiamano esseri umani, sono bipedi, no, plumi, in plumi, come dicono, ma in realtà macchina to macchina, cioè machine to machine. Lì è la comunicazione che sta veramente a fare. È lì che arrivano tutti i dati. Ma quanti dati? Tantissimi, altra freccia in su. Oh, questi sono dati della Cisco. Magari non funzionano perché sono un po' troppo rotondi. Da 4.4 a 44, gatti, cioè proprio, sembra un po' strano, però anche se l'hanno preso un abbaglio del 10%, sono sempre gazzilioni di roba. Oh, 4.4 vuol dire tutti i dati che noi abbiamo mai creato da quando abbiamo fatto la prima mucca sul muro della caverna, di qui sopra, al 2013. Praticamente tutti i dati che abbiamo li abbiamo creati noi, la generazione in vita. E ti credo che sembra uno tsunami. Ci mancherebbe. se non sembra uno tsunami, non hai capito. Allora, che cos'è che scende? Quanto costa? Sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno. E lì ci ho messo il comodo 64 per ragioni biografiche. Solo quello. Proprio perché mi faceva tenerezza. Insomma, ecco, Anni 80, insomma, ci mancherebbe. Allora, avete capito? Quattro frecce in su, una in giù. E quello che ci ha portato qua a questa che io chiamerei quarta rivoluzione. Perché il problema non è tanto che cosa possiamo fare che è straordinario, ma quello che abbiamo capito va su noi stessi. Ogni tanto qualche parolina, scusate, mi sfugge in inglese, quella ba, 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 su noi stessi. Pazienza. Emigrato. Allora, una delle questioni che ha veramente scardinato il digitale è la nostra autocomprensione. Allora, le prime tre sono cose che uno impara se non al liceo fatto bene, all'università fatta bene. Tre rivoluzioni di autocomprensione comportate da tre rivoluzioni scientifiche. Copernico, non siamo al centro dell'universo. Guardate che è stata una delle peggiori notizie mai ricevute dall'umanità. Gente che ci ha anche perso la pelle su questa faccenda qui. Roma non è tanto distante, Giordano Bruno nemmeno. Allora, tu vai un po' a spiegare a certi conservatori magari che stanno a Roma che non sei al centro dell'universo. Non piace. Eppure, così va il mondo. Antropologia deve cambiare. Non sono al centro della festa. possibile che la festa non era la mia? Aspetta. La festa è la mia. Non nell'universo, ma su questo pianeta. La festa è la mia e si chiama mondo naturale. Io sono il re e la regina di questo bene. Cioè, King of the Lab, per chi ha visto le brutte serie, allora, poi arriva Darwin e dice, mi dispiace, ma ho altre cattive notizie. Questo non va bene. Non siamo al centro neanche del mondo animale. Lasciate stare dell'universo, ma neanche qui, neanche su questo pianeta. e c'eravamo un po' ritrincerati zitti zitti, almeno da Cartesi in poi. Oh, quella canna, ve la ricordate? La canna, quella che sbatteva, però pensava. Qualcuno faccia risimi di assoddisfazione. Ecco, grazie. Sì, sì, liceo fatto bene, santa miseria, l'abbiamo prima sentito. Allora, la canna, ma che me ne fregava? Me ne fregava perché era un modo per stare al centro dell'universo. Non tanto. Legli animali, no, però almeno della mente. Cioè, tu sai, Cartesi, quel cogito ergo sum che lui dice, ma ammazza, ci voleva Cartesio. E ci voleva Cartesio. Perché significa identificare la mente come un cesto, metafora di Cartesio, dire che le idee sono come le mele, sempre Cartesio, e dire, sai che facciamo? D'ora in poi, tutto quello che abbiamo ricevuto, prendiamo ogni mela, guarda, è buona, è cattiva, no, in bianca, non c'entra niente. Cioè, buona, rimettila dentro, cattiva, bacata, buttala via. Le meditazioni. Allora, la meditazione di Cartesio, che sia un cesto, che ci puoi guardare dentro, e se c'è qualcosa, lo trovi. Se non c'è, non c'è. Poi arriva Freud, e dice, la tua centralità nel mondo della mente, purtroppo, te la puoi scordare. Semplifico dicendo che è colpa di mamma, ma non è sempre così. Mamma, adesso penso che non stiamo registrando, perché se no, poi. Allora, anche qui, Freud, ci toglie dalla centralità del mondo mentale. C'era rimasta ancora una centralità piccolina, ancora buona, erano gli ultimi anni, magari dopo la guerra, si dicevano cose del tipo, eh, ma tanto a scacchi, non ci frega nessuno. A parcheggiare quell'auto, ah, lo voglio vedere, io ho un computer a parcheggiare lì, in quel posto, a Milano. L'aereo da qui a lì, non c'è modo. Il frigorifero meno caro su eBay, ci penso io. Non è così. Non è così, perché la quarta diffusione è Alan Turing, che ci ha spostato, anche qua, dalla centralità nella infosfera, cioè nello spazio delle informazioni. Allora, dopo la quarta rivoluzione, per un'altra giornata, ci rivedremo in un altro luogo, c'è tutto un filone da seguire e dire, ma allora che facciamo se non siamo al centro della festa? Una cosa bellissima, organizziamo la festa. Mi fermo qui, perché dobbiamo tornare sul brinario principale, ma da lì in poi ci siamo un po' preoccupati. Allora, qui ci sono diverse cose. È cambiato il senso di storia. La storia non è la fine della storia, qualcuno l'avrà pure letto quel libro. Bella storia, quella. Ma che fine della storia? È proprio quando abbiamo pensato che la storia fosse finita, cioè che il mondo liberal, democratico fosse arrivato, abbiamo abbassato la guardia e ci siamo presi un cazzotto, una botta. In realtà, siamo entrati in un contesto di iperstoria, ma non perché il filosofo deve giocare con le parole, ma perché così va la logica. Preistoria, o manuale, niente di troppo fantasioso, ogni società che vive senza la possibilità di registrare il presente per il futuro, il che significa, in altre parole, che non sai scrivere. Non sapendo scrivere, o la ricetta te l'ha passata nonna dicendotelo, oppure è persa per sempre e non c'è niente da fare. Siamo passati, o tra l'altro quelle tavolette lì, vi ricordo, ma lo so che la sapete, che non è che parlano di vacanze, non sono cartoline, sono tutte quante cose legali, di business, quante vacche vai, quanto mi costa, eccetera, eccetera. Il che è importante perché dalla scoperta della scrittura o dell'invenzione della scrittura in poi, 6.000 anni fa più o meno, poi noi pensavamo quando studiavo io che l'avevamo fatto noi qua in Europa, oppure alle frate che è Europa, poi ovviamente l'hanno fatta in Cina. Allora, in questo contesto, 6.000 anni fa, risultato, la società comincia a dipendere dalla possibilità di registrare il presente per il futuro. Come? Con contratti. Perché la legge senza la scrittura non esiste. E invece la boh, l'ha detto, ma chi l'ha detto, non ha detto, senza sentito niente qui. No, 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 c'è scritto. Hai firmato. Oppure, organizzazioni, qualcuno gli dice, senti, manda un po' questo messaggio a 1.000 km dall'altra parte, 2.000, perché da Roma a Londra sono 2.000 km. Quando quel poveretto romano arrivava da là, un pezzetto di carta ci voleva, allora, la società comincia a sedersi e a connessersi con le ICT, cioè con le Information Communication Technologies. Sempre di più, non c'è Impero Romano, non c'è Napoleone, non c'è niente senza tutta questa capacità. E che è successo? Che ci siamo seduti ancora di più. Allora, non è che è finita la storia, ci siamo avvitati sulla storia. Oggi, quella relazione è diventata una questione di dipendenza. Anche qua, di questo albero, potremmo prendere una bella strada. Che cosa significa la dipendenza? C'è, ma non abbiamo tempo. E quindi, torniamo sulla strada maestra, spazio. Lo spazio è diventato un'infosfera, questo l'abbiamo già sentito, cioè noi viviamo in uno spazio fatto sempre più di informazione ed è lì che passiamo sempre più tempo. Ho detto Facebook, YouTube, eccetera. Ogni giorno, quei due miliardi e due di Facebook passano un'ora del loro tempo su Facebook. Sono due miliardi e duecento milioni di ore che ogni giorno Facebook deve curare di esperienza umana. Ogni giorno che passa. Non è poca roba. Adesso non è che voglio giustificare Facebook, ma se prendi uno scivolone è grave, perché sono tanti miliardi di ore che se ne vanno dalla parte sbagliata. L'esperienza. Abbiamo visto il tempo, lo spazio, dell'esperienza. L'esperienza è un life. Non avevo messo il... Non era così ormai. Allora, che è questa esperienza? L'idea è molto semplice anche qui. Nonna entrava nel computer. Quando bisognava fare un po' di software engineering era il cacciavite che tirava fuori. Lo sappiamo tutti, a meno quelli che hanno qualche velo bianco. Poi la figlia di nonna è uscita dal computer e il computer diventava qualcosa che stava davanti a lei. Ma la nipote di nonna è rientrata nel computer. quando si accorge che sta dentro il computer è perché qualcosa non funziona. Sono le sue aspettative disattese che fanno sì che è possibile che non c'è campo. Oppure, ma dai, ma quanto ci vuole scaricare questo film? È possibile su Netflix? Saranno almeno tre secondi. Cosa miracolosa. Allora, la rientrata nel mondo del digitale, così come ci stava dentro nonna, ha reso possibile una trasformazione fondamentale. Qua, di nuovo, c'è un altro ramo di questo albero che non analizzeremo perché vorrei ristare sulla linea maestra. Ve lo acceno soltanto. Il primo e il secondo di questi due esempi sono una cosa reale e un po' di fantascienza. La cosa reale è quello che noi facciamo ordinariamente con tutta la robotica. Noi costruiamo un mondo intorno alla robotica. La robotica non sa fare altro se non quello che fa bene all'interno di quello spazio. L'ultima visita alla Audi dove ci sono delle cose bellissime, piani e piani e piani di questi robot più alti di quelle colonne che girano automobili sembra un film di Hollywood. Perché? Ma perché tutto lo spazio è fatto per loro. Tu ci stai fuori e guardi. Non puoi entrarci dentro. Il secondo è come noi immaginiamo che sia l'intelligenza artificiale la robotica. Un giorno di questi qualcuno arriva e fa i piatti per me. Ma magari ho i piatti li faccio io a casa. Questo che sia registrato. Ecco, grazie. Qual è la cosa importante qua? Perché adesso è importante la terza cosa che mi serve come regalo per il compleanno. Pensate alle auto senza guidatori. Ma che stiamo facendo dei robot che scusa, adesso guido io? No, ovviamente no. Stiamo costruendo un mondo all'interno delle quali quelle auto che non guidano tanto bene possa guidare in maniera efficace. Quindi stiamo in realtà facendo il box intorno a quel robottino. Allora, qual è la vera sfida nel futuro, scusatemi? E' questo qua che dicevo regalo per compleanno a novembre 16. Dobbiamo trasformare la cucina in uno spazio all'interno del quale un robot che adesso sono io prende i piatti sporchi e li mette nell'altro spazio che il robot può gestire per lavarli. Perché al momento l'interfaccia sono io e non serve un cervello umano per fare un lavoro del genere. Non è possibile che abbiamo dei robottini su Marte ma serve un essere umano per prendere i piatti e mettere in alassolini. E' un po' disumano. Allora, qui vedete che c'è tutto un altro ramo non ne tratteremo oggi perché dobbiamo continuare in questa nostra maratona. Abbiamo visto il tempo, lo spazio, l'esperienza, l'on life. Allora, che è successo? E' successo che noi viviamo in questa specie di società delle mangrovie. Ci siamo, no? Cioè, grande rivoluzione, un'unità concettuale, spazio, tempo, esperienze, eccetera. Bene. E allora? Allora, la società in cui viviamo è quella una fotografia che mi ricordo non esiste mai, questo non è Oxford, nessuno si illuda qua. Nella società delle mangrovie è dove il fiume incontra il mare e va bene. Ma il fiume, acqua dolce, col mare, acqua salata, ha quella speciale acqua salmastra che non è né dolce né salata. Le mangrovie crescono solo lì. Allora, quando qualcuno ti chiede online, offline, mangrovie, no? Cioè, salata, dolce, salmastra. Io ho ancora filosofi che sono passati da ma è una moda, me lo ricordo, non vi dirò il nome, ma me lo ricordo ancora. Quando ero ragazzetto, ah no, Luciano, internet, è una moda, non durerà. Preciso. E quelli invece che ti dicono, no, no, tutto digitale, ormai l'analogio non vive più, non esiste più. Eh sì, la serie su cui mi trovo invece, Ikea, chi glielo spiega? Allora, è dove ci stiamo incontrando qua. E quella società è dove tutti stanno arrivando. Cioè, tutto il mondo sta via via scendendo dal fiume e dal mare per abitare insieme alle mangrovie in questo pasticcio di qui sopra. O non ci eravamo messi d'accordo sul pantano, ma capite che qua bello sì, ma un po' caotico questa società di mangrovi. Allora, in questa società di mangrovi qual è la cosa che ci interessa maggiormente e finalmente arriviamo sul tema? Perché questa era tanto una piccola introduzione per riscaldare i motori. Quando avevamo politici seri in Gran Bretagna dicevano cose del genere. non è una questione di determinismo. Non esce adesso questo c'è la sfera di cristallo oppure l'occhio da solo guarda nella caverna e ci dice come sarà il futuro. Il futuro è aperto. Però, a seconda di quello che semini poi raccogli. Come diceva il caro Churchill tu prima fai l'edificio ma poi una volta che hai fatto l'edificio quello dà forma alla tua esperienza. L'edificio lo scegli tu. La forma poi però te la dà da lui. Per essere un po' meno intelligenti il treno lo scegli tu quale prendere ma una volta che ci stai sopra se hai sbagliato poi aspetti la fermata successiva. Allora non c'è determinismo in quello che vi voglio raccontare assolutamente no ma c'è conseguenzialismo cioè se allora se prendi quel treno poi lì ti porti io oggi ho quasi rischiato di non arrivare qui perché ho sbagliato il terminale e al B26 c'era l'aereo per Algeri o una corsa per recuperare il treno. Allora in questo contesto qual è trasformazione concettuale? Vi ho fatto quelle frecce. Come ci siamo arrivati? Vi ho fatto qualche idea veloce su grosse trasformazioni vi potete immaginare che per un filosofo ogni parola o una lì richiede volumi cose fa venire un po' le vertigini ma noi andiamo avanti comunque e società delle mangrovie trasformazioni della nostra vita in questa acqua salmastra delle tante sfide qua qual è quella che oggi è la più potente? Ma non è l'innovazione digitale ma è che cosa fai con il digitale cioè non è la digital innovation ma la governance del digital o questo magari qualcuno l'avrà già capito ma vi assicuro che fuori da questa stanza non siamo in tanti e siccome non siamo in tanti è bene spiegarlo a quelli che magari stanno in altre stanze magari dei bottoni che di questa cosa proprio non hanno idea è gravissimo allora dobbiamo dare forma a questo mondo o questo mondo che abbiamo ereditato sta attraversando una crisi e adesso non vi faccio più ramificazione perché entriamo nel canale unico che voglio coprire è una sorta di arriva una rotonda potremmo prendere tante strade ne prenderemo una sola oggi che è quella un po' più socio-politica ci sarà da ridere allora in questo contesto noi abbiamo una crisi fondazionale cioè noi abbiamo ereditato dall'epoca moderna rivoluzione francese in poi un'idea dei nostri diritti umani che è un po' una storiella la storiella è questa c'è soltanto una cosa fuori che è la dignità umana se voi leggete la dichiarazione e poi tutti i diritti su una stessa riga tutti uguali tutti in fila e tutti amici non è così non è vero che i diritti umani vanno d'accordo è come se tu avessi tanti amici che non si sono mai incontrati decidi di organizzare una festa e si odiano la festa si chiama la società delle mangrovi ma sei sicuro? eccola qua ecco qui con quanto si vogliono bene sicurezza e privacy ve la ricordate la Apple, la FBI quanto hanno litigato? sicurezza no privacy o se questo non vi dice niente magari Snowden e Snowden sicurezza e libertà di informazione se anche quello non vi dice niente magari il diritto all'oblio libertà di informazione e privacy non vanno d'accordo oppure l'ultima proprio sfornata ieri Facebook e Cambridge Analytica Cambridge registra Cambridge Analytica oh gentaccia self-determination cioè come faccio a scegliere chi voglio essere cosa voglio fare da grande diciamo così con la libertà di informazione ora capite questi sono tutti diritti umani sono tutti importanti stanno tutti sulla stessa riga e non vanno d'accordo questa è una crisi fondazionale non da poco oh vi potrei tenere un'ora sana fino a farvi piangere sulla crisi dei fondamenti della filosofia della matematica non lo farò di questo no sarete grati è grati però per indicare che possibile una cosa così grossa non ce ne eravamo accorti ah invece che la matematica non avesse i fondamenti e ce l'abbiamo dovuta discutere tra l'ottocento e il novecento e non l'abbiamo ancora risolta quando due più due fa quattro lì non ce ne eravamo accorti per millenni allora se tanto mi da tanto non mi erano accorto nella crisi dei fondamenti della matematica pensa un po' quando parliamo di diritto di cose molto più labili oscure diciamo un po' delicate quindi sì è possibilissimo allora il digitale li ha messi insieme non vanno d'accordo dobbiamo trovare un modo di metterli d'accordo non lo sa nessuno come metterli d'accordo e quindi anche le ultime discussioni oggi hanno votato avete seguito la commissione su copyright che facciamo con i giornali articolo 11 articolo 13 per chi segue queste cose si sfasciano le cose molto velocemente bene una delle cose che abbiamo sfasciato è la democrazia vedete che stiamo arrivando un po' a imbuto la democrazia è una gran bella cosa lo dico perché d'ora in poi ne parlerò male quindi che si riconosca subito che io sono a favore della democrazia detto questo la democrazia non è come una di quelle cose tali che tanto più ne hai tanto meglio tipo la salute nessuno si lamenta mai c'è troppa salute no più ne hai meglio vabbè benissimo ci sono cose invece in cui tipo la cioccolata a un certo punto ti senti male c'è un eccesso di cioccolata e così come anche lo champagne eccetera cioè ci sono cose buone che però passano una certa soglia e oltre a quella soglia non sono più tanto buone adesso vi faccio vedere come per risolvere questa crisi fondazionale che ha colpito la democrazia nella società delle mangrovie dove siamo entrati in iperstorie avete capito che la cosa si sta facendo un po' complicata tutte queste pallette per aria che facciamo beh la cosa prima bisogna aggravarla cioè ci sono altri due problemi in più non ne usciremo vivi senza capire fino in fondo quanto è dolorosa la faccenda ci sono due fondamentali vincoli per risolvere la crisi della democrazia eccetera gli amici che non si vogliono bene il primo è il populismo e non ci eravamo messi d'accordo con la lecture o la lezione successiva però di questi tempi chi è che non parla di populismo allora il populismo è una brutta bestia e quando dici brutta bestia io dico brutta bestia sul serio cioè è un extremofilo quella brutta bestia lì a me fa schifo però pare che raccolga anche consensi online quell'animalaccio lì sono animali che vivono in condizioni estreme in cui sono gli unici a poter sopravvivere ora il populismo vive in condizioni sociali estreme in cui è l'unico a prosperare con un di più rispetto a quel brutto bagarozzo lì e cioè che il populismo genera le sue condizioni tossiche questo è il primo vincolo cioè più ti discuti col matto su facebook con la persona sgangherata su twitter tanto peggio perché uno ha riconosciuto il fatto che valga la pena interloquire con quel matto tipo ad esempio no? su certe cose mediche o certe cose politiche tanto più quello pensa se ci ha visto abbiamo un dibattito non abbiamo un dibattito tu sei matto io no tu sei un astrologo io sono un astronomo allora come fai a uscirne? cioè come si fa ad avere un dibattito con qualcuno che crea le condizioni tossiche tale che le condizioni tossiche tanto più ne discuti tanto più diventano tossiche non è facile primo vincolo l'avevo detto che diventa più difficile prima di uscirne poi secondo vincolo e qui dice sono a favore della democrazia però non sia un po' come la cioccolata o meglio è un po' come gli antibiotici gli antibiotici sono una gran bella cosa ma se tu abusi dopo un po' non funzionano più diventi antibiotico resistente allora la democrazia in cui noi viviamo qui in Italia o negli Stati Uniti o purtroppo in Gran Bretagna è diventata resistente alla democrazia cioè il populismo ha sviluppato una sua capacità di annullare quello che era la cura iniziale ora considerate che noi la democrazia antibiotica l'abbiamo usata dal dopoguerra in poi per risolvere qualsiasi problema cioè Germania dell'Est più democrazia qualcosa non funziona in Cina democrazia Corea del Nord una bella dose di democrazia poi vedi quando però è la democrazia che è malata più democrazia finisce male finisce antibiotici e che vuol dire che finisce antibiotici vuol dire che diventi resistente non resistenza quella è quella della guerra ma resistente alla democrazia e tanto più te usi la democrazia per risolvere il problema tanto più quello diventa resistente come gli antibiotici allora ha detto che è contro la democrazia no no io sono a favore degli antibiotici della democrazia ma dipende la democrazia non è come la salute non è una questione di quantità è di qualità che non è una cosa da poco allora in questo contesto abbiamo una crisi fondazionale abbiamo due vincoli sembra un po' quel paradosso in cui ogni tanto gli dicono hai tre fiammiferi in un triangolo ti do altri tre fiammiferi ho ricordato perché mi dovete dare almeno un quarto d'ora adesso poi ci ritorniamo io ti do altri tre fiammiferi e mi devi fare quattro triangoli uguali lascio a voi la soluzione cioè è impossibile ma questi vincoli io con questi vincoli qui estremofilia questa e quell'altra non se ne esce vivi come con il triangolo va bene qual è il problema che non dobbiamo risolvere abbiamo visto il problema con la fondazione ma qual è la cosa che è una distrazione la distrazione è la seguente la distrazione è che la demografia rappresentativa cioè quella che abbiamo ancora si spera da queste parti sia basata o sulle regole o sui valori si può dibattere filosofo A filosofo B no la demografia rappresentativa è una questione di regole di come facciamo le cose no no dei valori uguaglianze no no ad esempio della legge questo dibattito che noi abbiamo continuato a fare per parecchio tempo non ha visto una cosa fondamentale adesso capirete perché è importante coglierla che la demografia rappresentativa è in realtà una cosa basata sulla struttura del potere non sulla gestione del potere cioè il primo passo per avere una democrazia decente è separare chi il potere ce l'ha da chi lo esercita semplice e non è una questione di regole dopo la legge o di valori dopo ci stanno benissimo loro ma prima di tutto viene la cosa che anche i nostri fondatori della democrazia americana avevano capito subito cioè che se tu il potere ce l'hai e lo gestisci si chiama dittatura della maggioranza o se vuoi essere un po' greco tirannide della maggioranza ma non è una bella cosa allora per separare i due ci vuole la sovranità che è del popolo e ci vuole la governance che non è del popolo ah bel fascistone questo no 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 è la democrazia normale è quella rappresentativa allora in questo caso quando tu hai separato sovranità del popolo cioè chi il potere ce l'ha da chi lo esercita cioè la governance allora per il procederolista per lo strutturato la democrazia rappresentativa diventa una sorta di compromesso ah se soltanto stessimo in Atene bei tempi mentre per lo strutturalista come sottoscritto è una soluzione no no è proprio quello che volevamo non è un compromesso quando è che è partita questa idea del compromesso 1861 tra i tanti giusto per sparare addosso a qualcuno un collega inglese così John Stuart Mill ve lo lascio in inglese tanto tutto il resto così considerazioni sul governo rappresentativo e dice eh se soltassimo stessimo in un villaggetto con Alessandro noi condividiamo una certa passione in un posto piccolino a Guarcino un paio di migliaia di anime ci mettiamo tutti d'accordo purtroppo non siamo nel villaggetto e quindi bisogna eccetera e la storia che ci hanno raccontato anche a una scuola cioè che la democrazia rappresentativa è fatta come un se soltanto purtroppo e va bene fast forward qualche secolo e a quello a cui tu hai raccontato se soltanto purtroppo e va bene ti dice se soltanto adesso posso si chiama digitale clic 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 democrazia diretta hai visto otteniamo esattamente quello che volevamo e cioè quella che era in realtà una cosiddetta bugia bianca guarda io alla festa non ci voglio niente perché mamma sta male guarda ho sentito male sta benissimo e adesso cioè guarda la democrazia sarebbe tanto bella così diretta non la possiamo fare purtroppo non c'è modo non c'è verso facciamo una rappresentativa va bene adesso la possiamo fare e adesso adesso mi devo rimangiare tutto dice no guarda scherzavo non è così non intendevo mai dire che non era una cosa buona la democrazia rappresentativa è che era il modo migliore per venderla a suo tempo e adesso che te la devo rivendere ti devo dire la verità cioè che è proprio fatta così è una cosa buona che tu popolo abbia il potere e non lo eserciti perché altrimenti finiamo a Brexit giusto per sparare in casa o in altri modi c'è una ragione per cui noi i referendum non li facciamo sulla guerra e sulle tasse questa democrazia diretta perché chi si fida allora Barabba eccetera eccetera allora in questo caso qual è il vero problema il problema non è la democrazia indiretta rappresentativa eccetera è un altro il problema è che quando tu hai una visione strutturale della democrazia cioè chi potrebbe ce l'ha chi lo esercita questi lo devono questi fanno un cattivo lavoro li mandano a casa senza sparargli e ricominciano che è un po' come funziona la democrazia rappresentativa da queste parti in questo contesto il problema è strutturale cioè che tu prima hai separato due cose che poi vuoi mettere insieme e si chiama consenso cioè il problema del consenso è che proprio perché tu hai operato strutturalmente dividendo chi il potere ce l'ha da chi lo esercita dopo però devi mettere insieme questi qui e come fai a metterli insieme? mettendosi d'accordo l'accordo è un'operazione politica chi dice lo facciamo ad alzata di mano non hai capito niente ma come ti avevo spiegato separiamo prima poi li mettiamo d'accordo dopo dice ma allora è la stessa cosa prima li separi poi li metti insieme esempio la macchinetta del caffè e chi è che non ha mai fatto il caffè nella macchinetta nuova e poi l'ha buttato poi l'ha rifatto quello dopo viene meglio dice ma non potevi fare no è diverso la patina della riflessione aiuta se stessa in questo caso la separazione riunita non è la stessa cosa di una unione che non si è mai separata cioè il consenso non è semplicemente il voto della maggioranza nella tecnologia diretta è il ritorno dell'accordo tra chi il potere ce l'ha per mandare qualcuno a governare che poi dà conto a chi ce l'ha mandato sulla base di un accordo che deve essere politico dice ma là non serve a niente guarda allora facciamo te lo ripeto un'altra volta vado a correre da casa 5 milioni di ritorno hai visto sei tornato qua che l'hai fatto a fare? è l'esercizio che ha fatto tutta la differenza allora in questo caso qui il problema è il consenso e come facciamo a costruire il consenso? allora qua il digitale ci aiuta anzitutto serve più gente più gente c'è quello è un famoso teorema di Condorcet lo semplifico molto moltissimo consiglio di leggerlo con attenzione perché come tutti i teoremi matematici ha tanti di quelle condizioni che non sono soddisfacibili che poi non funzionano in niente ma se funzionasse grosso modo dice questa cosa tanti più siamo tanto più azzecchiamo il risultato della nostra decisione che ci sta pure cioè se tu prendi un sacco di gente con certe condizioni importanti tanti 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 più tanti ci sono meglio è la decisione presa per avere più voti magari li devi forzare quelli sono i paesi in cui la gente ha il dovere di votare se non vai a votare è grave e c'è qualcosa che succede tipo al tuo passaporto eccetera Australia Brasilia oppure si può abbassare l'età quelli sono i paesi in cui si può votare molto prima non soltanto a 18 anni alcuni anche a 21 ma invece si può abbassare diciamo poi finiscono tutti per votare i ragazzini chissà che fanno chissà che non fanno ah invece fino adesso è andata bene poi bisogna avere gente che vota meglio questo lo diceva già Rousseau il padre appunto del contratto sociale eccetera da nessuna parte dice ah sì qualunque scalmagnato lì può andare a votare no no bisogna dargli un'educazione a questi votanti devono sapere che cosa votano non possono controllare su Google il giorno dopo che cosa succede se voto Brexit il giorno dopo vedete quante persone hanno controllato che cos'è la comunità il giorno dopo è saltata le stelle ma perché perché le persone votano un po' così anche per rabbia per il momento istintivo poi e qui i tempi si stanno un po' allungando purtroppo siamo scivolati nell'agenda vedo lì giù adesso mi faranno sapere dalla regia fino a che punto possiamo arrivare la politica deve essere migliore e qua due cose proprio veloci cioè noi non siamo più l'animale politico che ci descriveva Aristotele tanto tempo fa non è vero che noi 24 ore al giorno 7 giorni alla settimana facciamo soltanto politica non vediamo l'ora stiamo sempre lì pronti pronti sempre a intervenire no noi siamo distratti viviamo in una società opulenta che ci permette di essere distratti e quindi dobbiamo essere chiamati alla politica il chiamare alla politica si chiama pubblicità attenzione è importante questo guarda qui non guarda lì questo è il problema non quello allora in questa gestione o economia dell'attenzione in cui poi tra l'altro i mass media online eccellono la fine dell'animale politico è vicina e il cittadino è un cliente come cliente deve essere soddisfatto o questa logica va abbracciata non può essere rifiutata o non mi piace e pazienza ma questo è il mondo in cui viviamo o la gestisci bene o finisce come è finita la politica migliore è anche fatta di motivazione e cioè che al cittadino un po' esigente che è diventato un po' come un cliente tu gli devi dare due cose gli devi dare l'interesse e gli devi dare speranza e se perdi le elezioni è perché gli hai detto che il presente non è così male e che il futuro farà schifo se voti per quell'altro così Clinton ha perso le elezioni così le ha perse devo dire anche il PD cioè ma le cose non vanno tanto male poi se votare per questi altri andrà una scatafascio ma chi è che vi dà il voto la politica non ha memoria non ricorda il passato altrimenti no la storia sarebbe diversa non ricordando il passato guarda il futuro il futuro lo vuole migliore del presente chi è che vuole un futuro peggiore del presente il presente a denigrarlo non ci vuole niente non costa niente e quindi conviene denigrarlo anche se non è vero perché adesso dico una brutta cosa perdonatemi ma la hubris della ragione è la sua infinita illimitata fiducia nella sua capacità di essere accettata in termini di semplice epifania ve la ridico in altro modo la ragione si mostra e dice basta spiegarglielo e che ci vuole non è così ci vuole la retorica la retorica della ragione è quella di Cicerone quella di Tocidide cioè bisogna anche spiegarle bene le cose per mandare la reazione giusta allora la speranza va gestita in questo contesto siamo arrivati però mi devono dire un po' dalla regia come siamo messi con i tempi perché so che abbiamo sforato all'inizio pausa benissimo allora avendo 5 minuti io vi chiederei di chiudere gli occhi perché adesso devo fare una non vi voglio far vedere certe cose quindi perdonatemi perché non vi farò vedere un sacco di cose che non vi devono interessare chiudete gli occhi e perdonatemi per la partenza in ritardo che costringe a questa cosa quello che voglio invece sottolineare arriviamo qui allora c'è un'altra cosa che volevo raccontarvi un'altra volta il progetto che noi abbiamo in tutto questo complesso gioco di parti e di rivoluzione digitale ha una grande assenza cioè noi riusciremo a risolvere tutte queste cose anche ma io sono un commento soprattutto se riusciremo ad avere un progetto umano del ventunesimo secolo cioè noi non siamo ancora riusciti a generare una cosa che non sia stata ereditata dalle generazioni passate il benessere individuale è una gamba importante di un'operazione a due gambe cioè noi oggi la nostra democrazia ma qui come in Gran Bretagna come in San Diego che cosa ha come progetto politico sociale? un meta progetto che è quello di assicurare il soddisfacimento nei limiti della legalità del progetto individuale di Maria Giovanni Peppino Luca ma non è un progetto sociale è un progetto sulla gamba del se sei un individuo cerco di fare un mondo meglio per te ma l'altra gamba quella sociale cioè noi da grandi che vogliamo fare come gruppo? e qui appunto subentra il we the people che non è Mario, Giovanni, Peppina tutti messi insieme è un we che ha un'operazione diversa cioè in cui le capacità emergono da un organo più grande che può avere progetti più ambiziosi e può avere quindi costi di opportunità cioè cose che non hai fatto perché non potevi perché eri soltanto un Mario Giovanni Peppino molto più bassi per spiegarlo in maniera molto più semplice se l'automobile non parte e siamo in 5 e tu vai lì e spingi e poi ci vado io e poi ci fa Maria e poi ci fa Giovanni ma ci può andare chiunque ma ci possono essere miliardi di persone che vanno là e gli danno una spintarella non si va da nessuna parte quello è il progetto individuale se però ci coordiniamo anche in 5 riusciamo a far partire l'automobile è banale è semplice ma la complessità del coordinamento tanto per essere un po' più seri è uno dei problemi essenziali oggi se non operiamo in termini di coordinamento della complessità e quindi di passare la solida di quello che poi fa la differenza non serve a nulla quindi non è vero che oh ma tutto serve no non serve è proprio inutile è come un po' di acqua nel deserto ma in fin dei conti qualcosa avrà fatto no non ha fatto niente allora in questo contesto siccome il coordinamento è tutto il progetto che noi dovremmo mettere in campo adesso qua esagerando un po' in paroloni perché non abbiamo tempo è che dovremmo scollare il capitalismo dal consumismo soprattutto all'interno del G7 quindi questo paese incluso noi non abbiamo bisogno di produrre tantissime cose tante penne di plastica da usare da qualche parte ad esempio abbiamo bisogno in realtà di un'economia che si basi molto più sull'esperienza e quindi magari far sì che il concerto dove tu vai e non hai comprato uno torni a casa e non ti rimane se non l'esperienza abbia lo stesso valore di lì dove vai al mercato e compri l'ennesimo piatto di plastica in questo capitalismo potrebbe avere un senso lavorare in termini di supporto la parola inglese è foster è quello che fai con i bambini quando li mandi non in adozione ma presso un'altra casa cioè prendi cura di che cosa? il mondo che ci circonda e soprattutto è bene che tutte le forze che stanno in giro perché la situazione è drammatica stiano dalla stessa parte cioè non è possibile sentire litigare i buoni tra di loro incluse ad esempio le aziende quindi quella che in inglese si definisce come corporate good citizenship cioè l'idea che le grandi aziende abbiano un ruolo sociale è fondamentale soprattutto in questo paese dove ce l'hanno avuto e continuano ad avercelo quindi non è banale in versione diciamo italiana e quelle varie felicità sono i punti che ho saltato perché non avevamo tempo stiamo arrivando in conclusione così la preoccupazione dell'organizzazione è da parte in questa operazione potremmo mettere da parte le due grandi forze che non possiamo non prendere in considerazione cioè la natura e la tecnologia cioè la physis per dirla un po' più alla greca e la tecne in una ecologia per giocare con le parole che abbia senso e quindi che faccia del verde e del blu se ne volete sapere di più il pamflet sta lì anzi a me piace chiamarlo opuscolo in modo un po' umile vedi sopra e cioè dove il verde e il blu cioè l'economia dell'esperienza da un punto di vista ecologico e l'economia del digitale convergano come forza unica allora tutti i buoni dalla stessa parte tutti ovunque come diceva Alessandro da dovunque provengano da dovunque vengano non mi interessa l'importante è che si voglia andare nella stessa direzione e tutti i buoni da dove stanno stanno gialli blu verdi rossi non mi interessa però che stiamo dalla parte giusta nella direzione giusta con queste forze alle spalle e quindi magari un ministero ci vorrebbe in questo senso allora qui la faccenda però resta questo la filosofia come fa a spiegarci che ci aiuta e siamo arrivati in finale eravamo partiti da quella domanda la filosofia domande aperte ecco questo ci deve ricordare che le soluzioni sono tante questa è come si risolve il problema di mi puoi costruire una sedia ma una sedia si fa in tanti modi un posto su cui posso sedere magari con dei braccioli uno schienale braccioli sì braccioli no quella si chiama poltrona senza braccioli va bene allora è sedia però deve avere uno schienale se no si chiama sgabbello va bene allora ha le gambe un posto sulle sedie e una spalliera sedia bravissimo quanti ce ne sono ma tantissime stili materiali design di soluzioni questo è un momento che vorrei darvi di ottimismo le soluzioni da trovare sono molteplici non c'è oddio se non azzecco quella non becco nessuna il che significa che il povero Tostoi aveva torto abbiamo iniziato con Dickens ho pensato chiudiamo con Tostoi così elegante tutte le famiglie felici si somigliano ogni famiglia infelice c'è problema invece è disgraziata a modo suo lui aveva questa idea che la felicità è come dire il centro del target tutti se lo becchi lo becchi se no stai fuori a stare fuori puoi sparare le freccette ovunque ma becchi soltanto uno è sbagliato l'avete visto le poltrone è come dire di poltrona ce n'è una su una tutte le altre sono sgambelli no non è vero ci sono tanti modi di fare le poltrone o le sedie in quel caso ci sono tanti modi di essere felici e allora si può riformulare la cosetta di Tostoi ogni famiglia infelice è disgraziata a modo suo vero ogni paese ha la sua crisi ripara quel modo e sarà felice come nessun'altra e quindi non andiamo a copiare per risolvere la crisi dei fondamenti della democrazia in Italia eccetera eccetera non andiamo a copiare nessun altro in marcia seriamente ma stare scherzando in questo paese con quello che marcia fino all'altro ieri ha significato in questo paese non credo proprio ci sono soluzioni saranno soluzioni ordinarie qua siccome avevo detto che qui tornavamo su questa cosa io spero vi siate spaccati il cervello su questa cosa come si fa con tre cerini cioè con tre fiammiferi a fare tanti triangoli qui la cosa importante della filosofia la filosofia è questo ricordato se c'è una cosa che devo dire una cosa sola design concettuale noi siamo ingegneri delle idee non usiamo i mattoni non usiamo i punti ma usiamo le idee per costruirne nuove adattarne altre eccetera allora come design concettuale torna utile possibile che con tre fiammiferi in quella funzione me ne dai altri tre e fai quattro triangoli impossibile ah sì eh è perché non ci avevi pensato ah banale banale come l'America dall'altra parte una volta che l'hai visto lo sanno tutti ma perché è banale ma perché ovviamente non pensavamo pensando alla terza dimensione pensavamo di dover fare i triangoli bidimensionalmente e quindi non poteva riuscire allora qui la filosofia che serve quell'apertura mente quel modo di avvicinare i problemi da un'altra parte e chiudiamo qua in questo modo la cosa che vorrei dirvi è che il digital è l'epoca del design i problemi che abbiamo sono in larga parte i problemi di design si può fare un design buono lo si può fare in versione interamente italiana ci vuole un po' di intelligenza tante più intelligenza e tanto meglio se poi vanno nella stessa direzione problem solved grazie 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 a tutti